Non è un posto magnifico? Beh, diciamo che avevo bisogno di cavarmela da solo, di vivere la mia vita. E l'ho fatto, è stato fantastico. Beh, controlla il taschino. Adesso mangio. Andiamo, te lo dico io, quel fototo Arnold ci ha lavorato duro. È un'arma. Una roccia. Un minerale capace di indebolire le cellule criptoniane. Il primo campione di dimensioni significative è apparso nell'oceano indiano tre mesi fa. Ora è a bordo del portoghese bianco e sarà consegnato all'ex Luthor, al quale io lo rubero. Ho fatto quello che ho fatto perché dovevo. Khan lo ucciderà prima o poi e distruggerà l'unità del branco. Assassino! Sta molto attento alla prossima cosa che dici. Sai, buffo, che proprio tu parli di gente morta fra le mie braccia. Perché quando ho ottenuto Harley Quinn e lei stava morendo dissanguata, mi ha sopplicato con il suo ultimo respiro, chiedendomi quando ti avrei ucciso. E prima o poi cazzo lo farò, io ti ucciderò. Di farlo lentamente. Voglio onorare quella promessa.